Tutta la gente povera vivevano in tutte queste grotte, era una zona di circo che si chiamava Chiafura. Addirittura ci dicevano i Chiafurari, siccome era gente povera, allora tutta la gente per bene stava in mezzo al paese. Qui, poi, in 1959-60, hanno fatto delle case popolari e hanno fatto sfollare. Pensate che alcune persone, quando gli hanno dato gli appartamenti, hanno visto tutto perché vivevano nelle grotte piccole, magari che erano 20 metri, allora hanno visto quell'appartamento 4, 5, 6 stanze, pensate che gli dicevano ma ci basta solo una stanza per noi, capite? Perché non avevano mai visto.